Noi non soltanto abbiamo messo oggi a regime, diciamo, alla fase post-provincia, quando erano le province a fare la programmazione, ma le abbiamo integrate in un quadro grande come la Regione. Rispetto a questo ci sono diversi interventi, c'è un fortissimo consolidamento degli istituti tecnici superiori che noi vogliamo estendere come numero e anche come specificità. Vi è un grande intervento per quanto riguarda la formazione di base, ma l'elemento chiave oggi è la formazione superiore, cioè il dottorato fatto con le imprese, fatto con le università nella nuova economia digitale. Nuova economia digitale vuol dire portare non soltanto alcune imprese, ma tutto il sistema dentro la nuova economia.